Maxi operazione dei militari del comando provinciale della Guardia di Finanza e dei Carabinieri della Spezia che questa mattina hanno sequestrato beni per circa 2 milioni di euro. I provvedimenti a carico di tre nuclei familiari di nomadi di etnia sinti insediati sì da anni nello spezzino e ritenuti parte di un'associazione più ampia che in concorso tra loro erano detti di danni a compiere truffe, furti, rapine e ricettazione. Nell'operazione denominata settimo comandamento sequestrati 13 fabbricati, 18 terreni, autoveicoli, conti correnti e libretti postali.